Maria Maria Revisore Revisore Ho solo una storia da raccontarvi, è la mia vita. Da piccolino mia nonna mi chiamava Mai Buongiorno. Diceva che non stavo mai zitto, continuavo a parlare e facevo domande. La domanda più bella che facevo era perché. Perché il cielo azzurro? Perché il ghiaccio si scioglie nell'acqua? Perché le calamite non si esauriscono? Mia nonna impazziva. Dopo due settimane che stavo dalla nonna, mi ha mandato all'asilo. Non ce la faccio a reggerti. Quindi il primo lavoro che ho fatto è stato all'elementari. Cosa che ho fatto? Ho iniziato a cucire. Cucire e stirare. Questo perché? Perché i miei genitori avevano due aziende. Mia mamma è un'azienda di cucito e mio papà è un'azienda di stiro. Quindi ho iniziato cuicendo bottoni, le lampo, stirando pantaloni, le gonne. La cosa più difficile è le gonne plissettate. Fortuna che non ci sono più, o quasi. Quando ho avuto i primi muscoletti, i micromuscoli, ho iniziato anche a caricare i camion. Adoravo il mondo dei miei genitori. Da grande pensavo di prendere in mano le retini delle aziende dei miei genitori. E alle medie ho iniziato a fare i primi conti. Quindi facevo i DDT, le bolle, le fatture, contavo le straordinarie delle ragazze. E ero già completamente proiettato in quel mondo. Mi diedero però, ai primi anni in cui fece il liceo, una brutta notizia. La Cina sta arrivando, non riusciamo più ad andare avanti, dobbiamo chiudere l'azienda. Le aziende, tutte e due. I miei genitori chiusero entrambe le aziende. Fu per me un colpo al cuore. Mi ero già immaginato, il mio futuro già bello costruito, caduto. E anche la casa, perché scoprì che la casa in cui vivevamo non era nostra, ma era dell'azienda. Quindi dovettimo cambiare casa. Feci il mio liceo scientifico. Finito, dovetti scegliere che università fare. Non avevo la minima idea. Scelsi per stupidità, o meglio, per simbiosi. Avevo questa ragazza in classe con me, che diceva di essere la migliore della classe. E io ritenevo di essere altrettanto. Quindi un giorno la profe dice, ma cos'è che andrete a fare da grandi? Che università farete? E lei dice, io sceglierò ingegneria ed 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 architettura, perché è una laurea doppia, perché è difficile. Cristian, tu cosa farai? Beh, se ce la farei ce la faccio anch'io. E quindi il motivo per cui scelsi ingegneria era solamente quello. Competizione. Bellissimo, mi piaceva da morire l'ingegneria. Arrivai fino in fondo. Ultimo anno, mancava solo l'esame di tesi. Devo scegliere che cosa fare da grande. Secondo colpo al cuore. Stavo cenando con i miei genitori. Era 2009. Terremoto all'Aquila. Dal telegiornale, mentre ce ne vamo, vedo case distrutte, persone morte. Altri che si rimboccano le maniche per spostare macerie. E lì dico, osti, stai diventando ingegnere. Stai facendo calcoli. Se sbagli un calcolo, uccidi persone. Occhio. Sei sicuro di voler fare l'ingegnere? Sei sicuro di essere grande? E lì, un panico assurdo. Il giorno dopo prendo il pullman per andare in università. e mentre aspetto, mi affianco a un camioncino e inizio a scaricare delle casse dell'acqua. Scarica la prima, la seconda, arriva a 10. Da quasi ingegnere, 10 casse, 15 bottiglie l'uno, 150 bottiglie, un litro e mezzo, 225 chili. Ma l'ultima cassa è spessa un paio di millimetri. Quindi la pressione che c'è su quella cassa, l'ultima, è la stessa che sta reggendo una casetta di due piani. Quindi vuoi dirmi che io riesco a costruire case facendo dei cubetti di plastica facilissimi? Tendenzialmente sì. Vado in un'università, però ho scelto cosa voglio fare da grande. Voglio fare una tesi sulle case in plastica. Oh, bravo Christian, bello che vieni a proporti. Peccato che la tua tesi sarà di un paio di pagine. La plastica non è nemmeno contemplata nelle norme tecniche. Cambio argomento. No. Ci ho messo un anno, 680 pagine sulle case in plastica. Volevo fare case di plastica. Mi sono accordo però che la ingegneria non ti insegnano a progettare con le plastiche. Non è nelle norme tecniche. E quindi cosa faccio? Tre anni di dottorato in ingegneria di materiali, specializzazione polimeri. Mi studio tutti i problemi che le plastiche avevano. Figata. Di notte riprogetto il mio mattoncino. Finiti tre anni dico, bene, ci siamo. Ho fatto tutti i calcoli possibili e immaginabili. Ora si tratta solo di produrlo. Solo. Inizio a sentire qualche imprenditore. Bella l'idea. Quanti soldi ti servono? Qual è l'Ebita? Qual è il break-even? Qual è il ROI? ROI, EBITDA, break-even. Che cacchio sono ste robe? E quindi un anno di master in economia. I genitori volevano vai a lavorare che siamo stufi. Poi gli ho fatto un calcolo di quante borse di studio ho vinto. Non potevano dirmi che mi hanno pagato gli studi perché me li sono strapagati. Primo giorno del master, terza demolizione. L'analisi di mercato è tutto. Prendi 50 persone, anche amici, chiedi loro quanti vorrebbero vivere in una tua casa di plastica. E quello è il tuo business plan? Zero. E io, scemo, scemo, tre anni a studiare plastica e nessuno voleva vivere in una casa di plastica. Fortunatamente vengono altre idee. Ho fatto una cinquantina di concorsi, alcuni vinti. Il primo mi dà 5.000 euro e chi mi dà l'assegno mi dice deposita il brevetto di questa idea perché per me è figa. Va bene, deposito l'idea, due giorni dopo vendo la licenza a 15.000 euro. Figata. Le idee diventavano un lavoro. E lì ho aperto la mia prima azienda. Volevo sviluppare idee. Anonimi fino a pochi anni fa. Tre anni fa, durante il Covid, un ospedale inizia ad avere bisogno di maschere respiratorie. Un medico dice, ma perché non partite da una maschera che già esiste? E lì prendiamo una maschera da snorkel, iniziamo a smontarla, costruiamo una piccola valvola che è agganciata al boccaglio, le convertiva in respiratorie. Facciamo i primi test, funzionano. Decidiamo di regalare il progetto. Carichiamo online il file, in modo che chiunque con una stampante 3D potesse stamparsela. 186.000 persone salvate. 72 stati, 720 ospedali, 6 mesi di lavoro di 14 persone. Ricevuto il titolo da Mattarella, un premio Nobel per l'impatto sociale, compasso d'oro, madre Teresa Memorial Award, PA Disruptive, grifone d'acciaio, due poleri svello, bla bla bla. Tutti a dire bravo? Sì. Peccato che non vedono quello che c'è dietro. Sei mesi senza dormire, 15 chili persi, tantissima paura di uccidere persone. Due persone morte davanti ai miei occhi. Di notte dormivo e avevo paura. 180.000 euro persi, nessuno mi ha mai dato un euro. E tante invidie, da un lato hanno scremato il bianco dal nero, e mi ero ripromesso, detto mai più nella mia vita, far progetti per gli altri, fregatene. E per due anni così faccio, vado avanti nella mia strada, torno nel mio dimenticatoio. Un anno fa mi chiamo un medico, Antonella, mi dice Cristiano ho letto il tuo libro, perché poi esce un libro, due film, ho letto il tuo libro, non è che riesci a stamparmi in 3D anche delle gambe? Come nelle gambe. Siamo in Ucraina, stiamo aiutando le persone che hanno perso una gamba per guerra. Abbiamo 3.000 amputati e non abbiamo soldi. Una gamba costa dai 5.000 agli 80-100.000 euro. Non abbiamo budget. Mi aiuti? Me la progetti? Magari con 500 euro. E lì rido, ecco, eh sì. Cioè la bioeconomica costa 5.000, io con 500. Qua siamo oltre il limite. Tre secondi dopo, nella testa, dico devi farlo. Mi presenta Davide, è un tecnico ortopedico, mi fa vedere come vengono fatte le prime gambe, e dico, bene, ho una mezza idea, costruiamo la prima protesi. La costruisco, un paio di giorni in ufficio, e subito dopo dico, come faccio a provarla? Io ho entrambe le gambe, tutti i miei ragazzi ce le hanno, non conosco nessuno senza una gamba. Vedo con mia moglie il film Benvenuti al Sud di Claudio Bisio. Facevo il finto invalido. Beh, lo faccio anch'io. Tolgo la cintura, mi leggo la caviglia e la coscia, e improvvisamente sono senza una gamba. Mi monto la protesi, e questo è il risultato. Pessimo. Cinque passi, forse, il piede si rompe, stampato in 3D in carbonio. Non ci siamo. Completamente sbagliato. I miei ragazzi ridono, perché sono il più vecchio, loro vanno dai 21 ai 30 anni, quindi il video era ironico, ho tolto l'audio apposta, perché mi vedono far cose apparentemente sceme ogni volta. E non ci siamo. Il giorno dopo però, uno dei miei ragazzi che gioca a basket, si fa male, e viene in ufficio con un tutore. Dico, scusa Ivan, provo a togliere il tutore, fammi vedere come funziona. Tutore figo, fatto con barre d'acciaio. E ho detto, ma chissà perché. Faccio due calcoli, 1400 kg di forza, riusciva a reggere. Perfetto. Prendiamo il tutore, iniziamo a smontarlo, e nel frattempo su LinkedIn scrivo, qualcuno senza una gamba voglia di darmi una mano, 80 persone rispondono. nessuno da Brescia, fatto salvo questa ragazza che si chiama Letizia, che viene e mi dice, ti do una mano, perché di gamba ne ho una sola, ti do una mano. E Letizia si prova la protesi, se no sei completamente fuori strada. E mi dà tutte le dritte, quindi io, Davide, Antonella, Letizia e altri ragazzi iniziamo a riprogettarla. Questa è la prima protesi, protesi è un parolone, dove Letizia cammina, camminicchia, deve essere accompagnata e mi dice, qua mi fa male, scivolo, non siamo ancora performanti. Beh, devo prendere altre ispirazioni, dove vado? Vado da Ikea, da Ikea, sì, da Ikea, ciotola in acciaio inox, bellissima, 4,50 euro, devo farle economiche, faccio da fine corsa, nessuno di loro ha un moncone uguale, ha un diametro uguale, cosa facciamo? Perfetto, queste sono cinghie, come la cintura, nessuno di noi ha lo stesso diametro della vita, usiamo le cinture apposta, quindi io vado a cambiare la geometria della mia fascia ogni volta che mi serve. Ma nessuno ha il fondo moncone uguale, verissimo. Io ci metto delle coppe di 3 o 4 diametri e poi vado da un dentista, mi sono fatto regalare il silicone, quello che usiamo per l'impronte, ce lo metto dentro, in 5 minuti diventa duro, ci appoggio il mio moncone e in 5 minuti ho il calco esatto della mia forma, che mi farà da cuscino per tenermi dentro. Ovviamente si può regolare. E infine il piede, è un piede particolare, perché scopro che quando viene amputato, il tuo cervello deve tornare a capire cos'è l'equilibrio. Hai perso improvvisamente 15 chili, 12, 13, 14 chili, quindi non sei più simmetrico. E il tuo cervello deve rimparare, quindi ha bisogno di un piede che sia rigido. Però io dovevo fare, e quindi per i primi tre mesi ti dicono cammina con piede a martello e ginocchio teso. Devi tornare a capire qual è il tuo equilibrio. Subito dopo, tre mesi circa, quando sei tornato ad avere il tuo equilibrio, vorresti un piede elastico con un ritorno come ce l'ha l'altro. Quindi devi cambiare piede o cambiare protesi. E in più il moncone si sgonfia, quindi dovresti cambiare geometria del moncone. Nel mio caso togli 5 euro di silicone e ti rifai l'invaso. E col piede cosa fai? Noi ci siamo fatti un piede in poliuretano, che vuole essere elastico perché è fatto da tre archi. Ma gli ho messo due fermi, che sono le nervature centrali, quindi lui non può flettere. Quindi per i primi tre mesi questo è il piede che funziona. Dopo tre mesi cosa facciamo? Andiamo a tagliare via le nervature e quindi da un piede da rigido diventa flessibile. Questa è Letizia che inizia a camminare da sola, su un tapirulan, e finalmente funziona. Facciamo i conti della serva, 500 euro. Fantastica, ci siamo. Applausi Raccogliamo soldi, iniziamo a produrle, ne spediamo prima una cinquantina, siamo arrivati ora a 120, ben lontana dai 3.000, ma il sogno non è finito. Ci arrivano i feedback, iniziamo a migliorarla, non abbiamo ancora finito il progetto, stiamo andando avanti. E ci riusciremo, ne sono certo ormai, l'80% del lavoro è fatto. Si tratta di fare l'ottimizzazione. La cosa più importante in assoluto, però, è una. Le persone. Da solo Cristian non sarebbe arrivato da nessuna parte. Senza Letizia non avremmo mai capito dove andare. Senza Davide, che è un tecnico ortopedico, non ci saremmo arrivati. Senza Ivan, che è alla mia spalla, che è colui che poi fisicamente le monta, non ci saremmo arrivati. Senza Antonella, che me le porta in Ucraina, nemmeno. Ecco, questo è un progetto di nuovo che vuole essere benefico e non lo vogliamo limitare all'Ucraina. L'idea è quella di riuscire ad industrializzarla per andare in Siria, in Afghanistan, in tutti i paesi di guerra, dove nessuno avrà mai 5.000 euro per potersi permettere una gamba. E quindi ad oggi cammina solo con una stampella. L'obiettivo nostro è far camminare le persone e soprattutto risolvere problemi. Grazie. Grazie.